L'olfatto per i profumi, il tatto per i gadget, la vista per ammirare il paesaggio, ma soprattutto il gusto per assaporare l'essenza stessa del territorio. La vacanza è prima di tutto un'esperienza sensoriale e la promozione turistica non può che partire da qui. Lo sanno bene Confcommercio e alberghi consorziati, che nei giorni scorsi nella sede della Gnuco Promo di Fano hanno premiato diverse realtà locali che attraverso le loro produzioni e iniziative, tengono alto il nome della città della fortuna e del suo immediato entroterra. Questo è il secondo anno che abbiamo lanciato questi prodotti di eccellenza, che sono quelli che veramente hanno assaggiato i nostri turisti che erano in vacanza a Fano. Però non solo Fano, ma abbiamo toccato anche l'entroterra, tipo il vino di terra cruda, l'olio di cartoceto e con questa iniziativa portiamo qualcosa di importante alle aziende che fanno dei grossi investimenti. Dal cibo alle bevande tipiche passando per il merchandising. Tra tradizione e innovazione, l'importante è fornire al turista un'esperienza immersiva sul posto, ma anche un ricordo tangibile che una volta tornato a casa rievochi in lui il tempo trascorso nelle nostre zone. I prodotti sono la pasta, l'olio, i profumi, i liquori. Non tutto segue il discorso enogastronomia, ma anche iniziative tipo dei gadget su Fano. Per noi è veramente stato un ottimo risultato. Come Conf Commercio siamo particolarmente orgogliosi di sostenere, chiaramente, in questo momento così difficile della realtà così strutturata e del nostro territorio, perché con orgoglio e con professionalità hanno creato delle eccellenze. Eccellenze che chiaramente diventano come attività sia protagonisti che promotrici della nostra tradizione, nonché innovazione, e che creano appunto quel binomio di identità, se vogliamo, di unicità proprio del nostro territorio e della nostra città. È proprio la capacità di far conoscere le caratteristiche intrinseche del nostro territorio il grande merito delle aziende, dei professionisti e delle associazioni locali premiate a Fano. In primo piano la specificità di un distretto turistico come il nostro, che parte dal mare e arriva fino in collina, con i suoi valori, sapori e prodotti da mettere in rete e su cui fondare delle mirate strategie di promozione. È chiaro che queste attività, queste eccellenze così importanti, creano appunto quel marketing territoriale che per noi è fondamentale, perché dobbiamo far conoscere il nostro territorio, la nostra città a livello sia nazionale che internazionale, se vogliamo, e quindi diventa una vera e propria vetrina dove possiamo così attrarre sia a livello turistico che a livello commerciale. Quindi noi crediamo proprio nella valorizzazione di tutte le nostre eccellenze per poter attrarre così ancora più investitori che possano arrivare nella nostra città per creare poi quel circolo, quell'economia circolare che possa portare più ricchezza e possa portare più lavoro nella nostra città. Quindi crediamo che bisogna veramente investire a livello turistico e commerciale per portare appunto chiunque voglia arrivare per sostenere veramente la nostra città.